Vitale, Vitale, saluta, Vitale, saluta il pubblico della casa. Ingegnere, questo è un bastretto rosso. Senti l'odore, no, perché l'odore è un po' sentito, senti l'odore. Senti l'odore. Senti l'odore. Ogni tanto sento qualche cosa, senti l'odore e non l'avevi passato mai. Lo metto, poi in mezzo alla line, insegnere, guarda bene, guarda. Adesso ti tira una parte, sciogliata, la signora. E fa anche bene. Fisca, insegnere, fisca. Soffia, soffia. Che è, soffia. Che è, soffia. Ah, soffia. Stiamo a vedere, soffia. È spappato, mi dà. È spappato, è spappato. C'è, 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 c'è. Oh, soffia. Oh, soffia. La vita era questa. E c'è, 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 c'è. Oh, bravo, Vitale, applausi, applausi. Bravo, bravo. Harry Plotter, vai. Il mango Harry Plotter. Scusami. Lì, c'è, 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 c'è. Grazie.